Io, Samir, tu non capir! Io come un cazzo, cazzo me la schianto! C'è Chris da ventina, è due anni che mangio un pacco di insalata, mi piace l'acqua d'acqua d'acqua! Sali su Samir, protetto la risposta da un'altra! In aiuto di tetti Nonostante tu sia un umano, non sei affatto un umano! Come mi hai chiamato? Mi chiamo Finn! Finn! Come mi hai chiamato? Jake, hai sentito? Che stai dicendo? State a sentire, predoni-kunoni! Laggiù c'è qualcuno! Brava, brava! Allora, chi è che piange? Sos Allora, chi è che piange? Alcunerino! Sono io! Oh, che ti succede, montagna? Piangi, cigni? Sì! Ti prometto che scoprerò una montagna! Devo trovare un'altra soluzione! Scoprerò Jake! No, no! Oh, che bello! Allora, stavolta va tutto per il meglio, giusto? Certo! Grazie, Finn! Come mi hai chiamato? Sì, calpisci, Finn! Lasciala di sasco! Devo trovare un'altra soluzione! Jake, io voglio scoprare Iridella! Sono geloso del vostro rapporto! Mannaggia la mignotta! Quando passo il tempo con l'ediridella, passo il tempo con Finn! E quando mi perdo i bei momenti con Finn! Passo il tempo con l'ediridella, e quando passo il tempo con TicTic! Mi perdo tutto il divertimento con Finn! Ma vattene affanculo, te è tutto ospedale! Non è grandioso! Due piccioni con una fava! Hoopi di scop! Scoop di di whoop! Ehm, cosa? Ecco il traduttore! Dai, prova a dire qualcosa, forza! Indizi della Terra Piatta 14 Il vestito della credibilità Terapia Tapioco! Prematurata la supercazzola o scherziamo? Ehm, cosa? E bu, ma faccio io sta cagata! Li mortacci loro! Ehm... Ehi! Chi è che sta suonando? Dai, prova a dire qualcosa, forza! Basta Berlusconi! BASTA! POR- BASTA!